Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da vostro, Mr. Volpix, nomadietta, ben ritrovati oggi su Tiff Ok, allora ragazzi, oggi continuiamo, eravamo giunti qua che dovevo andare a cercare Basso visto che era scappato con il libro quel pezzo di merda Ok, e continuiamo Ok Ho capito Ah, l'architetto del barone, scusate Ok, Garrett, andiamo Benissimo, allora, tanto che non ci gioco perché sinceramente ho giocato il più Castlevania in questi giorni Mi sto creando che non lo continuiamo Ok Allora, continuiamo Andiamo qua Ok, bravissimo Garrett Oh, bella, sai Oh, prendi Qui no? Ah, no, dall'altra parte, ok Ok, vabbè Vai Oggi l'apesodio durerà un po', ehm, poco, poco di meno, come cazzo si dice Durerà più poco rispetto agli altri perché Piove da me, c'è il temporale, quindi mi spavento che vada via la luce, ragazzi, avete capito? Non ci posso fare niente Ok Bene Quindi niente Chissà le volte Ecco il papavero A inventare Ah, vero, c'eravamo rifornite l'altra volta Ok Andiamo Opla Ok Ok Entriamo di qua Tiene premuto Ok, benissimo E noi teniamo premuto La solleva Come al solito Vai, 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 vai Oh Vai Minchia tutta sta forza Basta Minchia così pesante rispetto agli altri Minchia qua Nessuno ha mai definito i suoi lavori raffinati Ok E stasera pare che io non sia l'unico visitatore Eh, che culo È congelante Ok, vediamo come ci possiamo infiltrare Ok Andiamo girando da qua, vediamo cosa possiamo trovare Andiamo piano, piano Minchia qui c'è il cane Minchia la putt Caput Minchia qui nell'ombra sono Sono qui nell'ombra Mannaggia la puttana Eh, mannaggia la puttana Vai Dov'è? Oh, porca puttana Perché cazzo l'ho fatto? Mannaggia la puttana Ok ragazzi, ce l'ho fatto L'ho fatto fuori Non ve l'ho fatto vedere perché Era tipo un quarto d'ora Di stare attenti Quindi entro subito Ok, chiudiamo Andiamo ragazzi come piove fuori Porca puttana Da qua Andiamo, sbirciamo Ok La luce è accesa E questo non va bene Poi qua non c'è nessuno Vabbè Per una cosa si metterà difficile Lo so Porca puttana Ma vabbè Ok, raggiungi lo studio d'architetto Spegni Ok, benissimo Chiudiamo O se magari non ci sospettiscono C'è qualcuno che dorme Che candelabri Andiamo qua Spegni Spegni Bravo Bravo Avevo detto che le nostre vite Sarebbero cambiate Vai Ok Non so dove sono Mi ci vorrebbe un bel chiosco di sbobbo Ok Non so dove vengono ste voci Perché c'è quel pezzo di merda di corvo Qui sono E la luce Ok Allora Che ingolata Porco Giuda Dai Non ti girare Chissà cosa mettono nella sbobba Porca puttana Ah, l'ammazzo No Non ce la faccio Ok Vediamo Cibo A inventare un piede Che culo Uno fatto Ecco Suca Ok Andandoci Lì c'è la guardia Minchia C'è un'altra guardia Qua sono porca la puttana Ragazzi Scusate per tutti i tagli Ma Sinceramente Non mi Cioè Non mi fate Favere Tutto Tutte le volte Che è Ok No No Vediamo se è passata qua Merda Porca puttana Ok Siamo qui sopra Benissimo Allora raga Mi sto preoccupando Mi sto Preoccupando E sinceramente Mi sto qua Canto e muore Perché è molto difficile Sta missione Ho visto spesso Il padrone Passare di qui Ma Quando poi Andavo a guardare Non c'era nessuno Non hai mai pensato Di approfondire No Certo che no Non sarebbe cortese Su via Madre Malberry Parli nobile Nobile Tu sei Ok Un'entrata segreta Quel che fa il caso mio Vediamo Vediamo Il passante qua Vabbè Vediamo Per ordine del parone In persona Elias Northcrest Devi consegnarti Alla di lui Arma Non ha senso Aspettare qui Con i guastafeste Entrare nel suo studio Richiede un tocco E' molto meglio Se uscite Volontariamente Mastro Istwick Aprite la porta Vediamo Sta giocando A ratto Sally Jack Là dentro O cosa Vai Zucca Ok Spegni Non c'è niente Ah ecco qua Ah vabbè Prendiamoci sta cosa Visto che ci siamo Un oggetto eccellente Ok Benissimo Ma io dovrei andare Cioè Non è qui Cioè Non è qui il mio obiettivo Vediamo se Scassenarla Vediamo Dai 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 Ok No No Ok Benissimo Vai Ok Devo sbagliare Volpix L'aera Ok Fatto Vediamo Piano 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 Me lo faccio a puttana Minchia Antisolti Tu pezzo di merda Oh mio dio Come faccio Si sta facendo tardi Vai Su qua Benissimo Quindi noi Continuiamo Qua Devo andare qua Raga Inutile Ok C'è questo qua Di nuovo Vediamo se funziona Ecco Ok Benissimo Adesso siamo Nell'ombra Raga Concentrazione Appagarlo Ecco Questo è quello che Si sente l'odore Del fiume Lo so che si sente L'odore del fiume E lui si gira Di nuovo Va a fare Il giro Lì c'è ancora Cosa che mi interessa Ok Allora è rimasta La cameriera L'altra cameriera Dall'altra parte Questa guardia E quella Regina Non so cos'era Ok Ma per che caso Ci controlla questa La cameriera Non lo so Cioè che senso ha Controllare la cameriera Dove sono finiti i venditori di sbobba Vai Succa Ho visto qualcuno Aiuto Guardie Vai Succa Silenzio Ronza Eselenzio Ok Mi ha detto Vai Ok Ho fatto rumore La puttana Ok Qua era Benissimo Vai Ok Raga Quante taglie Che vi trovo a fare Ragazzi Direi che il video Oggi Può anche finire qua Spero che vi sia piaciuto Buongiorno in su Commentate Contividete Noi ci vediamo Siamo al prossimo video Ora a voi Sono uscita Volpix97 E lo so raga Oggi è durato poco Ma io sono qua Da 35 minuti Non vi credete Vabbè Niente Ciao ragazzi Al prossimo video Bella